Questo è sicuramente l'originalità di questo ritmo, di questo penso che abbiamo sentito su RDS l'1.51 della nostra domenica Ma non tutti sono originali nell'ambito musicale, perché il nostro weekend questa settimana si chiama Plagio ma non troppo E quindi faremo un viaggio fra i plagi reali e anche un po' le spiazzature vere o presunte della storia della musica E andiamo a due grandi successi che sono uno del 2010, uno del 2009, molto vicini da una stagione all'altra E anche di due grandi amiche oltretutto Allora io voglio provare, mettiamoci tutti alla prova, perché io ho sentito un pezzettino, non sono riuscita a distinguerle, non so voi se ce la farete Ecco ci siamo andati giù pesante, un puttolo mashup, iniziamo da questa E adesso Non sono quali, no, sono due donne diverse Questo è il grande paguro che ha realizzato questo mashup Una è Katy Perry con il suo California Girls e l'altra invece è TikTok di Kesha Però attenzione, è la Katy che ha rubato a Kesha Esattamente TikTok di Kesha è del 2009, Katy Perry invece è del 2010 E poi tra l'altro Kesha sono talmente amiche che ha fatto anche la comparsa nel video del primo grande successo di Kiss the Girl di Katy Quindi insomma è improbabile pensare a un plagio voluto Un rubacchiamento così Pensa un po' Pensa un po' Pensa un po' Sampai un po' Sì!